Siamo qui a Pozza davanti al cantiere Residenze Terra delle Rosse e oggi voglio mostrarti, andiamo insieme a vederla, la villetta che mi è rimasta. Si tratta di una villetta completamente indipendente. Qua siamo all'interno fra le quattro villette ovviamente perché ognuna ha la sua area cortiliva ben divisa. All'interno ci verrà il nuovo vialetto di collegamento. Eccoci davanti alla nostra villetta. È ovvio che ci vuole ancora un po' di immaginazione perché i lavori non sono ancora stati completati. Siamo però a buon punto ma soprattutto possiamo ancora personalizzarla. Entriamo insieme. Eccoci all'interno. Questa è la zona living che è stata volutamente tenuta open space, quindi c'è la possibilità di scegliere ancora se cucina abitabile o cucina con angolo cottura. La zona giorno esposta a sud è dotata di una soluzione un po' alternativa. L'architetto ha voluto creare questa seduta naturale, una bow window, quindi una ampia vetrata che raccoglierà luce e farà da seduta. Collegamento interno per continuare direttamente al garage che è l'unico elemento di collegamento fra le due villette, quindi completamente indipendente e un bagno giorno molto ampio per gli ospiti. Piano superiore che ha questo pozzo luce aperto sul soggiorno, un bagno per il reparto notte e le tre camere da letto, quindi una matrimoniale ampia, una cameretta e una camera tre quarti. Ti voglio ricordare che si tratta di un'abitazione di ultima generazione, classe A4, ventilazione meccanica dell'aria, riscaldamento a pavimento, pannelli fotovoltaici, impianto in pompa di calore completamente indipendente. Se vuoi maggiori informazioni i recapiti sono sempre soliti. Chiamami, ciao!